Come costruire un preamplificatore a transistor? Non serve Arduino, basta semplicemente un transistor e pochi componenti. Lo schema di questo circuito è veramente molto semplice e di sicuro funzionamento. Vi serve semplicemente un transistor di tipo NPN, può andare bene un 2N2222, che è molto comune e costa pochissimo. Servono due resistenze, una di 10k e una da 100k, due condensatori da 10nF e una breadboard e alcuni jumper. Lo schema del circuito viene definito a emettitore comune, perché come potete vedere l'emettitore del transistor è collegato a massa. Il segnale raggiunge la base tramite uno dei due condensatori, che viene utilizzato per fare in modo che le tensioni continue non raggiungano il transistor. La linea di uscita del circuito è formata dalla resistenza da 10k e dal transistor stesso. Sul collettore si va a collegare il secondo condensatore che serve per elevare il segnale in uscita. Noterete che c'è una resistenza da 100k collegata tra il collettore e la base, serve per polarizzare il transistor e realizzare una retroazione, prendendo parte del segnale in uscita e riportandolo all'ingresso. Questo tipo di anello fatto col segnale sarebbe per stabilizzare il transistor ed evitare che con l'aumentare della temperatura, con il variare della tensione di alimentazione, varino le prestazioni di questo semplice amplificatore. Per la costruzione potete realizzarlo direttamente su una breadboard, inserendo i vari componenti. Quindi io ho iniziato mettendo un ponticello su massa a cui ho collegato l'emmettitore del transistor. Dopodiché ho inserito il condensatore collegato alla base per portare il segnale di ingresso. Quindi il secondo condensatore da 10nF tra il collettore e la fila di pin destinata all'uscita del segnale. Quindi la resistenza da 100k, con i terminali abbastanza stretti perché deve andare a collegare la base e il collettore del transistor. Infine l'ultima resistenza deve collegare il collettore alla tensione positiva di alimentazione che può andare da 5-9V, insomma abbastanza libera. In questo caso invece che una resistenza da 10k ho utilizzato un trimmer per poter variare il guadagno dell'amplificatore. Ho notato che modificando il valore, partendo da 10k a salire, arrivando a 12 si ottiene il massimo guadagno. Aumentando ulteriormente il valore di questa resistenza si trovano poi delle distorsioni sul segnale di uscita, quindi non è raccomandabile. Inserisco infine due jumper, quello giallo per portare il segnale all'ingresso e quello blu per portare il segnale in uscita e regolo il trimmer. Per provare l'amplificatore con un generatore di segnali ho applicato un segnale all'ingresso, lo vedete sull'oscilloscopio, dopodiché ho spostato la sonda collegata al jumper giallo e sono andato a vedere cosa accade in uscita. Come vedete il segnale in uscita rispetta perfettamente quello all'ingresso ed è di ampiezza maggiore, quindi è stato amplificato. Il circuito è pronto per essere utilizzato, se volete utilizzarlo anche per altre vostre realizzazioni vi conviene utilizzare una basetta per forata e quindi saldarlo in modo che sia più stabile e pronto all'uso. Grazie per la visione!